Salve, buona fine settimana a tutti e benvenuti alla consueta analisi del fine settimana a mercati chiusi dove come da programma andiamo ad analizzare non solo i grafici giornalieri ma anche i grafici settimanali. Bene, però vediamo un attimo che cosa è successo nel corso dell'ultima seduta dal punto di vista microeconomico e come hanno chiuso le borse europee e le borse americane. Quindi, le borse europee hanno chiuso la settimana all'insegna della debolezza appesantita dal settore petrolifero con i prezzi del greggio in calo di circa 3 punti percentuali in vista della riunione di Doha in programma domani. L'incontro nel Qatar vedrà i principali paesi produttori di greggio incontrarsi per trovare un accordo appunto sui livelli estrattivi inerenti al petrolio per i prossimi mesi. Un incontro che, secondo quando riportato dalle maggiori agenzie internazionali, non vedrà la partecipazione dell'Iran, una notizia che ha creato dei dissapori tra i partecipanti che tale situazione potrebbe condizionare l'andamento del greggio anche nelle prossime ore. Infatti, già per quanto riguarda le ultime notizie date alle ore 15 e 3 di venerdì scorso, ci sono state appunto un forte movimento a ribasso. Questo movimento a ribasso appunto potrebbe continuare anche nelle prossime sessioni della nuova ottava. Bene, però vediamo un attimo come hanno chiuso le borse europee. Il DAX appunto è chiuso a meno 0,42%, l'Ibex a meno 0,12%, il CAC di Parigi a meno 0,36%, il FTSE di Londra a meno 0,34% e il FTSE Mib a meno 0,39%. Beh, per quanto riguarda invece i listini americani, Dow Jones chiude a meno 0,20% insieme anche al Nasdaq, mentre lo Standard & Poor's chiude a meno 0,10%. Passiamo invece a, per quanto riguarda le notizie macroeconomiche, iniziando dalla zona euro dove la bilancia commerciale è risultata in calo nel mese di febbraio, il dato destagionalizzato ha registrato un saldo attivo per 20,2 miliardi di euro in flessione rispetto ai 22,8 miliardi del mese precedente e sotto le stime degli analisti pare 21,5 miliardi. Mentre nel corso della sessione pomeridiana dagli Stati Uniti c'è stata appunto la pubblicazione del consueto indice della fiducia dei consumatori calcolata dall'Università del Michigan riferita al mese di aprile, dove si è attestata appunto 89,7 punti dai 91 del mese precedente. Gli analisti avevano stimato invece un rialzo pari a 92 punti. Mentre per quanto riguarda la prossima settimana dal punista macroeconomico già lunedì 18 aprile avremo a mezzanotte e 45 dalla Nuova Zelanda l'indice dei prezzi al consumo, martedì 19 ore 11 l'indice Zev della Germania e alle ore 14.30 i permessi per costruire dagli Stati Uniti. Mercoledì 20, 1.50 dal Giappone la bilancia commerciale, mentre alle ore 10.30 dalla Gran Bretagna la variazione delle richieste di sussidi di disoccupazione e il tasso di disoccupazione. Poi passiamo alle ore 16.30 dagli Stati Uniti con le scorte del petrolio greggio. Questo potrebbe essere un ulteriore dato dove potrebbe dare un ulteriore scossone per quanto riguarda quindi al greggio, quindi al VTI, all'USOIL e via di seguito. Poi passiamo invece giovedì 21 aprile, ore 10.30 dalla Gran Bretagna, quindi dal Deptavia. Poi passiamo direttamente alle ore 13.45 dove praticamente l'attenzione, più che altro anche l'attenzione di tutta la settimana, oltre all'incontro, al meeting di Doha di domani come già ne abbiamo parlato prima però, abbiamo anche giovedì 21 alle ore 13.45 la decisione dei tassi di interesse da parte della BCE che, stando alle prime notizie, soprattutto per quanto riguarda il costo del denaro, dovrebbe rimanere tutto come sta, quindi la BCE dovrebbe mantenere in atto lo status quo che ancora abbiamo fino adesso. L'unica cosa importante da tenere sotto controllo però è la consueta conferenza stampa di Draghi che, come ben si sa, di solito quando parla Draghi oppure anche qualsiasi membro delle varie banche centrali, spesso la moneta, in questo caso l'euro di riferimento potrebbe subire forti aumenti di volatilità, forti sbalzi, quindi sia a rialzo che a ribasso. La regola è questa, come si sa, è preferibile non restare al mercato soprattutto per chi opera nel breve termine, per chi quindi opera soprattutto in operazioni intraday. Poi alle ore 14.30 dagli Stati Uniti abbiamo l'indice di produzione della Fed di Filadelfia. Passiamo all'ultimo giorno, venerdì 22 aprile, alle ore 10, indice PMI manufatturiero della Euro, della zona Euro, 14.30 dal Canada l'indice di prezzo al consumo e chiudiamo alle ore 15.45 dagli Stati Uniti l'indice PMI manufatturiero. Bene, prima di arrivare, di iniziare a fare la nostra consueta analisi dei grafici, delle nostre coppie valutarie, sappiamo che già per chi mi ha seguito nella settimana appena conclusa di ieri, abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Vedete, praticamente tutte le varie coppie hanno tutti i vari segnali che ho dato nel corso della settimana, ma soprattutto lunedì, le avete trovate buona parte sulla nostra pagina Facebook di Teletrade Italia, sono andate tutte a buon fine, quindi abbiamo avuto una settimana ricca di pippe, esattamente siamo arrivati a quasi a 1000 punti, esattamente a lo stop loss a breakeven e praticamente è stato colpito lo stop loss con 86 punti, Euro Audi sell 131, poi EuroCAD 340 punti in vendita, USDCAD sembra in vendita 80 punti, EuroGBP in vendita 90 punti e chiude il EuroCAD, un'altra operazione, un secondo target di 272 punti, totale 999. Abbiamo chiuso invece, non fatto partire le operazioni su AUDN, SELL, New Zealand Dollar SELL, AUDUSD SELL e GBBUSD SELL, in quanto praticamente non c'erano più le prerogative per poter andare avanti per quanto riguarda queste altre 4 operazioni. Bene, andiamo avanti, vediamo se questa settimana ci sono altri setup di ingresso al mercato partendo come dall'EuroDollaro. Bene, l'EuroDollaro guardate che praticamente c'è stato questa seduta, la settimana che appena si è conclusa è stata appunto una settimana all'insegna dei ribassi, seppure nell'ultima parte della seduta e i venditori hanno, i compratori hanno iniziato un po' a recuperare terreno. Però guardate che siamo sempre sul settimanale, c'è stata questa, alla fine c'è stata questa falsa rottura, come si evince dalla lettura delle candele del livello statico e della resistenza settimanale 1,1374. La settimana scorsa abbiamo avuto una d'oggi, a chiara indicazione di un affievolimento della forza dei compratori e infatti poi nella settimana che appena si è conclusa abbiamo assistito a un forte evento da parte dei venditori. Ora, la chiusura della settimana è al di sotto dell'indicatore dinamico che io utilizzo, della media dinamica e quindi praticamente del supporto dinamico, quindi siccome chiude sotto molto probabilmente a questo punto ci sarà una doppia indicazione short, quindi anche nella prossima settimana potremmo assistere ad ulteriori eventi short. Passiamo sul giornaliero per focalizzare di più l'attenzione, vedete come dopo tanti giorni, tante spike di cui spesso per chi mi ha seguito ne avete sentito parlare dalle mie analisi, vedete quante volte il prezzo si è mantenuto sempre al di sopra di 1,1376 e i venditori stentavano quindi ad effettuare una discesa di sotto questo supporto, ma poi che cosa è successo? Esattamente mercoledì scorso c'è stato questo forte movimento ribassista quasi una marabosu, vedete solo con queste piccole shadow sia al rialzo che hanno dato quindi in là ai venditori per poter continuare al ribasso. Giovedì c'è stato un altro movimento però short, però sporcato nell'ultima parte di giornata dai compratori che hanno dato vita a questa barra, piccola barra di esorimento del trend short e infatti giovedì c'è stato questa, diciamo che da qui dal minimo al massimo, dal minimo della giornata di giovedì al massimo della giornata di venerdì si è chiuso una piccola e brevissima correzione, quindi più che altro io la ritengo una correzione riguardante in particolare la chiusura delle posizioni da parte dei venditori che già avevano iniziato a spingere, cioè già avevano iniziato a prendere posizioni sul massimo in aria praticamente qui sopra ad esattamente 1.14.62. Bene, quindi molto probabilmente abbiamo detto che è una correzione, quindi molto probabilmente la view, quindi anche sul giornaliero è ribassista, l'indicazione è questa, praticamente di entrare short esattamente alla rottura del minimo di giovedì a 1.12.30, quindi questo è il livello di ingresso, questo è il livello appunto di ingresso, mettiamo anche una freccia di ingresso short, da qua in poi si può andare short con una prima zona di target esattamente a 1, a pochi punti, al di sopra 1.11.42, poi qua bisogna vedere come arriva il prezzo, se arriva diciamo se sprofonda, possiamo avere anche una zona di supporto a 1.11.60, quindi un raggiungimento dell'altro supporto settimanale. Passiamo al dollaro yen, bene, il dollaro yen, nel settimanale abbiamo una correzione del nuovo short, di questo movimento short, questa correzione, con una candela inside e con, vedete qua c'è un doppio minimo, eccolo qua, proprio, vedete come si sono, diciamo c'è stato proprio, il prezzo si è seduto esattamente sopra in aria, precisamente si è seduto in aria a 107.60, vedete come, quindi a questo punto abbiamo questo doppio minimo e questa upper shadow abbastanza pronunciata da indicazione per una correzione del nuovo movimento short in alto, quindi secondo me la settimana è stata solo di correzione del movimento short iniziato su questi massimi e quindi molto probabilmente anche la prossima settimana potremmo avere una condivazione di questo movimento short. Vediamo sul giornaliero se abbiamo altre indicazioni ed ecco qua l'indicazione più chiara, correzione, tre giorni di correzione e poi già venerdì hanno iniziato a spingere i venditori, quindi a questo punto l'indicazione è short, a questo punto che cosa fare? Per domenica sera, anche qua l'idea di fondo è quella di entrare a mercato esattamente a rottura del minimo, quindi qui giù di venerdì, quindi qua è esattamente ad, allora vediamo un attimo, prendiamo un attimo esattamente verso 108.40, meglio 108.30, insomma 108.30 si fa short. Bene, passiamo al cable, allora, il cable qua praticamente nel settimanale non c'è niente da dire, abbiamo una congestione tenuta dal micro supporto, tenuta appunto dal, anzi dal supporto 1.40.72 e poi qua sopra c'è anche un micro supporto 1.40.80, quindi alla fine siamo all'interno di questo movimento flat che è evidenziato anche dagli indicatori dinamici che sono piatti, quindi non c'è niente da dire, la stessa cosa sul giornaliero, vedete alla fine la situazione si evince ancora di più qua la congestione, movimento con alti e bassi che più che altro, quindi non mi danno sempre al di sopra, vedete questa zona che già ho evidenziato in giallo le scorse settimane verso 1.40.60, 1.40.80, quindi siamo flat con la possibilità di uno short però a rottura al di sotto 1.40.80, ok? Bene, passiamo a USDCHF, sempre sul settimanale, abbiamo una correzione del movimento short, quindi con, quindi del movimento short e sul giornaliero invece la price action, quindi la lettura delle due candiere, le ultime due candiere giornaliere hanno, ci fanno vedere, vedete come le chiusure si mantengono al di sopra il supporto a 0.96.60, quindi se il supporto mantiene l'indicazione qua in questo contesto è più long che short. Passiamo all'AUDUSD, anche qua settimanale non mi dà delle grosse informazioni, vedete ci sono candele intervallate, blu rossa, blu rossa, blu rossa, quindi alla fine anche se il movimento di fondo è rialzista, vedete a partire da questi minimi fino a sedere sopra, però nell'ultima parte, nell'ultima salita, vedete, non c'è una indicazione di massima importante, quindi anche se vedendo bene la chiusura si trova in prossimità, l'AI si trova in prossimità, il close si trova in prossimità del massimo della seduta, quindi potrebbe continuare il movimento long anche nella prossima seduta, però è tutto da vedere. Vediamo sul giornaliero, vedete il giornaliero abbiamo idem, lo stesso movimento rialzista di fondo, però attenzione a possibili storni di bassisti, anche se vedete qua, anche qua siamo su un movimento congestivo dove è indicato anche dagli indicatori dinamici che si posizionano proprio al centro di questa zona, quindi che tagliano le medie, quindi in questo momento per quanto riguarda AU2SD lo metto un po' da parte nella prossima settimana. Passiamo al AUSD CAD, AUSD CAD qua abbiamo un'ottima indicazione rialzista, che già ho dato indicazioni anche venerdì scorso, giovedì, e no, anzi venerdì scorso dove, vedete, la settimana si è fermata proprio chirurgicamente, guardate su questo supporto, 1,28 e 20, testato diverse volte in passato, infatti se vado a restringere il grafico, vedete quante volte, è importantissimo questa zona, 1,28 e 20, quindi questo è un ottimo punto di partenza per una possibile posizione long, ok? Passiamo al giornaliero, eccolo qua, il giornaliero, vedete, abbiamo una possibile condivazione di una correzione long dopo aver raggiunto 1,28 e 20, raggiunto l'ultima volta nel mese di ottobre 2015, vedete, eccolo qua, restringo un po', vedete, quindi l'abbiamo raggiunto l'ultima volta qua, quindi molto probabilmente potremmo avere una continuazione, cioè uno storno di questo movimento ribassista, vedete qua, però ovviamente a questo punto andrò a vedere domenica sera se inserire già un pendente, se lo vado a inserire in un pendente, certamente lo andrò a inserire in area 1,29 e 20, 1,29 e 30, giusto per avere una conferma, in modo tale che nel caso in cui il prezzo invece vuole continuare il suo movimento short, alla fine esco dal mercato senza avere nessun costo in quanto non mi va a colpire le mie ordine pendente long, però vedremo un attimo domenica sera, voglio fare un attimo il punto della situazione per decidere se immettere qua già un pendente long. Passiamo a New Zealand dollaro, molto velocemente, qua la situazione, vedete, l'ultima parte del movimento long è stato bloccato, vedete, per la terza volta di seguito da questa zona resistenza a 0,68 e 90, però anche se l'ultima candela, anche se per poco ha chiuso, oltre la resistenza questa qua, attendiamo però confermere la prossima settimana per un eventuale movimento rialzista. Sul giornalino abbiamo troppi alti e bassi su un massimo di periodo, quindi attendiamo cosa succede prossimamente, al momento non do un'informazione importante. poi passiamo all'Euro GBP, il settimanale, quindi forte movimento short con una chiusura vicino al minimo, nonostante che però vedete come la chiusura è al di sopra, il supporto a 0,79 e 20, quindi ci potrebbe stare uno short a rottura di questo 0,79 e 20. Passiamo al giornaliero, vedete come si mantengono le ultime tre giornate, quindi a questo punto devo considerare questa qua come una zona di stop and go del movimento short iniziato su questi massimi, quindi che cosa fare? Nel caso in cui il prezzo rompe 0,79 e 20, qui io andrò short, quindi qua si può mettere benissimo un pendente, questo però rinviato domenica sera. Poi Euro Yen settimanale, piccolo movimento short, inside rispetto al big movement della scorsa settimana, grande movimento ribassista, quindi l'indicazione qua è sempre short data anche dalle candele che si mantengono sempre al di sotto i miei indicatori dinamici. Passiamo al giornaliero, il giornaliero qua, vedete, se rompe a questo punto questa zona, se rompe, quindi se va al di sotto 122,40, quindi vedete già c'è un'indicazione short che la chiusura al di sotto questo livello, quindi praticamente anche qua abbiamo una buona opportunità di vendita. GBBN settimanale, quindi qua abbiamo una correzione del movimento short di fondo con una formazione inside, ovviamente se rompe l'ultimo minimo lo short, quindi potrebbe continuare anche per la prossima settimana, quindi l'ultimo minimo indico, sarebbero quelli della scorsa settimana, 151,30, quindi 151,30 si va short. Andiamo sul giornaliero, eccolo qua, anzi ancora meglio, sembra una fine, vedete, sembra proprio la fine della correzione, ha toccato e salito, ha toccato questa zona, ha risentito di questa zona e vuole iniziare a scendere in continuazione del treno di fondo. Quindi qua vado a migliorare il mio setup, il mio timing ingresso al mercato è esattamente a 153,60, quindi anche qua si va short. Andiamo a Euro a UD settimanale, allora, Euro a UD settimanale, quest'ultima settimana c'è stato un fortissimo movimento di vendita e a continuazione del movimento di fondo, iniziato sui massimi del 7 febbraio. Qua siamo sempre short a mercato e infatti, vedete, sul giornaliero manca pochissimo, se mi sposto sul giornaliero manca pochissimo, quindi per pochi punti non è stato raggiunto il target venerdì, c'è stato questo storno da parte dei compratori, però manca pochissimo, tendiamo appunto il raggiungimento del target. Eurocard, siamo a settimanale, anche qua su Eurocard abbiamo assistito a un forte movimento short che si è fermato, vedete, a livello proprio chirurgico per la seconda volta di seguito, sopra al supporto settimanale 1,43,80, al momento in atto sembra stopparsi, ma per una possibile prossima settimana long. Vediamo il giornaliero che cosa ci dice, idem, la situazione si vede meglio qua, molto probabilmente, vedete come abbiamo un micro supporto, qua vedete come si è appoggiato su questa zona esattamente 1,44,40, quindi qua potrebbe partire un evento long, sempre a rottura del massimo di venerdì 1,45,90. Passiamo all'ultima coppia, Audien, nel settimanale c'è stato un forte recupero delle posizioni dei compratori dopo le perdite della scorsa settimana, quindi abbiamo una inside con falsa rottura, vedete, del supporto, qua generale una falsa rottura, il supporto in zona 82 è supporto mensile, questo è colore verde. Il rialzo potrebbe continuare anche nella prossima settimana. Andiamo al giornaliero, invece qua abbiamo un'indicazione contraria rispetto a quella analizzata sul settimanale, le ultime 3 sedute con barre di esaurimento, con l'ultima, quella di venerdì, vedete, un'indicazione short con un mio partner quasi, cioè un partner personale, le quali potrebbero appunto, in questo caso abbiamo anche barre di esaurimento, quindi potrebbero anticipare la fine del movimento long di breve per iniziare una nuova fase short. Quindi a questo punto io attendo conferma, la mia conferma è sempre alla rottura di 83,50, più che altro, anzi 83,50, 83,40, quindi anche qua molto probabilmente deciderò di inserire molto probabilmente un'operazione short domenica sera. Ripeto, le operazioni in questo caso in base a come si muoverà il mercato delle prime ore di contrattazione le troverete quindi sul mio, sul canale, non mio, cioè sulla nostra pagina Facebook Tele3 d'Italia, lì andrò a postare tutte le varie, i vari ordini pendenti. Bene, per questa fine settimana è tutto, grazie mille per l'attenzione, grazie, vedo che mi seguite in tanti e ci aggiorniamo sulla pagina Facebook per eventuali operazioni di ordini pendenti oppure operazioni a mercato. Grazie a tutti.